Buonasera, buonasera da Ondatigina, apertura subito la cronaca. Io ti faccio, così avrebbe detto un 45enne di Sulmona, ormai nel lontano 2015. Per quell'episodio però il pregiudicato è finito davanti al giudice per le minacce anche di morte a un ispettore di polizia. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Minacciò di morte l'ispettore superiore della squadra anticrimine del commissariato e oppose resistenza agli agenti che si erano recati nella sua abitazione per svolgere una normale attività. Con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale, un 45enne di intro d'acqua aggibì le sue iniziali è comparso ieri mattina davanti al giudice monocratico del tribunale di Sulmona, Concetta Buccini. I fatti risalgono al 28 febbraio 2015. La squadra anticrimine del commissariato, coordinata dall'ispettore superiore Daniele Lerario, si recò a casa dell'imputato per verificare se il presunto aggressore di una giovane che aveva asporto denunce alla polizia si nascondeva a casa del 45enne. Gli uomini dell'anticrimine avevano infatti ricevuto una soffiata su una presenza abituale nel quartiere dove ricade la casa dell'imputato, l'esoggetto in questione. Quando i poliziotti si recarono a casa del pregiudicato dentro d'acqua, si scatenò il putiferio. Trovarono innanzitutto il suo cane, un pastore abruzzese di grossa taglia, che ostruiva il passaggio e li aggredì. Gli uomini dell'anticrimine a quel punto invitarono più volte il 45enne a legare l'animale e allontanarlo. L'imputato non solo non ne volle sapere, ma passò alle minacce. Lerario, come ti sei permesso a venire a casa mia a quest'ora? Questa mattina è proprio sbagliato. Prova a fare un altro passo e vedi cosa ti succede. Tu non sei nessuno. Andiamo in bagno, io e te, e vediamo che cosa ti faccio. Pensi che sono come tutti gli altri? So dove trovarti e quello che fai. Io ti faccio, esordi 45enne rivolto all'ispettore. Alla fine gli uomini dell'anticrimine riuscirono ad accedere a casa dell'imputato, non senza fatica e concitazione, ma per l'uomo è scattata la denuncia per esistenza pubblico ufficiale. Ieri gli ispettori, Lerario e Pizzo Ferrato sono comparsi davanti al giudice per testimoniare, mentre il prossimo 30 marzo sarà sentito un altro test e sarà esaminato l'imputato, difeso dall'avvocato Reforo di Sulmona, Alessandro Margiotta, che nella sua linea difensiva ha puntato tutto sul fatto che quelle minacce non hanno ostacolato l'attività di polizia. La prossima udienza potrebbe rivelarsi decisiva. Aggredito il cane tenuto in custodia dalla consigliera comunale Elisabetta Bianchi. Un vile gesto, ha commentato la Bianchi su Facebook, denunciando il caso. E' stato proprio l'ingegnere Speranza ieri sera a portare cani a spasso per quella che doveva essere una semplice passeggiata serale, ma in via Margherita uno dei due animali, Tiger, è stato aggredito da un cane pastore tedesco. L'esemplare, appena visto i due cani, li ha saliti. E' stato uno dei due animali in custodia alla Bianchi a frapporsi e ad avere la peggio. Non avrei mai pensato di dover pubblicare le foto di ferite, eppure oggi è necessario per certificare la delinquenza di chi stanotte, lasciando il suo cane lupo senza guinzaglio, ha consentito che tre quarti della nostra famiglia venissero aggrediti senza pietà. Un gesto vile, che ha lasciato molte doloranti ferite. Chi ha visto parli, ha scritto la Bianchi su Facebook, incassando già la collaborazione da parte della cittadinanza, nonché la solidarietà. Il proprietario del cane ferito, l'avvocato Speranza, annuncia querelle sempre sui social, stigmatizzando il gesto che definisce incivile e fuori dal comune buonsenso. Ancora bus in avaria, corse soppresse a Sulmona, non ne possono più, soprattutto i residenti delle frazioni pronti per un esposto in procura per interruzione di pubblico servizio. Facciamo il punto nel nostro servizio. Ancora bus guasti e insufficienti, e il comune di Sulmona dirà malennissimo avviso di soppressione delle corse di linea che afferiscono a tre turni di lavoro. Una comunicazione che, come al solito, sarà pubblicata solo sulla home page del sito istituzionale dell'ente, un metodo, quello utilizzato da Palazzo San Francesco, che non piace agli utenti, soprattutto a coloro che non sono assidui frequentatori del sito del comune. Eppure nell'area digitale non è quello l'unico canale a disposizione. Fatto sta che in tanti questa mattina hanno atteso il bus in vano, nel centro cittadino, in qualche frazione sulmonese, da dove divampano polemiche. L'intenzione dei residenti delle frazioni, che già stanno raccogliendo le firme, è quella di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Sulmona per interruzione di pubblico servizio. Con le buone ci stiamo accorgendo che non si risolve la situazione. Più volte abbiamo dovuto far fronte a tale disagio, anche per i nostri figli più piccoli, che non hanno trovato il bus nella fermata per regarsi a scuola. Abbiamo preso permessi dal lavoro, trasformando i nostri mezzi personali in taxi di emergenza. Ma ora è il caso di dire basta, attuano i residenti che si stanno muovendo. La protesta è scattata principalmente alle cavate a Torrone, da dove è partita l'iniziativa della denuncia sposto in Procura, anche se al momento tutto deve essere messo nero su bianco. Nei giorni scorsi i tre mezzi sono andati in avaria, mentre i due nuovi bus acquistari di recente restano in attesa dell'immatricolazione. Oggi sono state soppresse 15 corse, tutte in mattinata. Chissà se qualche disagio, vista la situazione, si verificherà anche nella giornata di domani. Controllate allora la homepage del sito istituzionale www.comune.sulmona.acu.it, sempre che l'avviso sia diramato in tempo. Alberi contro la SNAM, arriva l'interrogazione della senatrice sulmonese Gabriella Di Girolamo sul divieto che impose la questura. Sentiamo meglio nel nostro servizio. Ennesima interrogazione della senatrice pentastellata Gabriella Di Girolamo riguardante lo sciagurato progetto della costruzione della centrale SNAM in località Casepente. Nel testo la parlamentare sulmonese ha chiamato in causa il ministro dell'Interno chiedendogli un suo parere nel merito a proposito dell'intervento del 14esimo reparto mobile della Polizia di Senigallia volto a dissuadere manifestanti a vigilare sull'atto simbolico di piantumazione di alcuni alberi da frutta nel sito dove è prevista la costruzione della centrale. Un episodio che risale allo scorso 14 dicembre. La manifestazione annunciata alle forze dell'ordine dagli stessi organizzatori attivisti noti per essere assolutamente pacifici era volta esclusivamente a sensibilizzare la popolazione sulla vocazione naturalistica dell'aria interessata direttamente a ridosso dei confini del Parco Nazionale della Maiella inadatta all'introduzione di una centrale di spinta dato il suo indice di sismicità tra i più alti dell'intero territorio italiano. A mio avviso utilizzare un cannone per combattere una farfalla è un'inutile spesa di denaro pubblico nonché un pericoloso incentivo a stati di allarmismo e tensione fa notare la di Girolamo ribadendo la sua posizione su progetto SNAM è un progetto utile soltanto a incrementare su tutto il territorio italiano una rete già più che sufficiente alla distribuzione del gas metano per il fabbisogno necessario. Nella considerazione di un immediato futuro in cui l'abbandono dell'energia proveniente da fonti fossili dovrà essere la priorità assoluta di tutti i governi mondiali se davvero vogliamo lasciare un pianeta vivibile ai nostri figli e invertire il trend evolutivo dei disastri dovuti ad eventi climatici di portata abnorme e eccezionale è il caso di invertire la rotta, conclude la senatrice. Ed ora la politica con le prove di campagna elettorale di Masciani chiamati a raccolta sono stati espulsi da partito democratico che hanno revocato almeno verbalmente l'appoggio al sindaco Anna Maria Cassini ma se è vero come è vero che la città di Sulmona si proietta verso una nuova campagna elettorale fermo restando la sfiducia o la caduta della Cassini che è ancora da studiare a tavolino i fedelissimi di Bruno dovranno pur decidere da che parte stare per questo per domenica prossima 19 gennaio è arrivata la chiamata raccolta presso un hotel cittadino i dimasciani sono stati chiamati a rapporto dall'ex sindaco Bruno Di Masci che nell'ultimo consiglio comunale dichiarò di voler revocare l'appoggio alla Cassini dopo aver votato i debiti fuori bilancio nei giorni scorsi si è parlato di mozione di sfiducia di ritiro degli assessori di riferimento nell'aggiunta comunale tutte mosse che tendono a indurre il sindaco Anna Maria Cassini a gettare la spugna ma su una cosa la Cassini è stata chiara non si dimetterà lo ha ripenuto più volte dallo scranno più alto di Palazzo San Francesco con tanto di sinfonia al ritmo di vergognatevi sfidando i suoi alleati quasi ex a una forte assunzione di responsabilità per domenica ho convocato un summit per riunire quanti sono vicini al nostro progetto non è che noi siamo stati cacciati dal PD ma non abbiamo mai manifestato l'intenzione di tornarci dopo il commistariamento esordisce il consigliere comunale di Masci l'obiettivo della riunione è quello di tracciare un percorso alla vigilia delle eventuali elezioni amministrative tenendo conto che dimasciani sono fuori dal PD e seppur più vicini ai renziani non avrebbero intenzione di allinearsi con Italia Viva è facile che presenteranno una lista a sostegno dei civici gerosolimiani dopo l'alleanza sancita lo scorso anno per evitare un lungo commissariamento che in queste ore si sta consolidando per porre fine all'era Casini il ritiro degli assessori potrebbe essere il primo passo anche se i cittadini attendono risposte e mosse concrete nel bene o nel male in un momento dove la politica è sempre più distante dalle istanze degli elettori questi conosciuti solo in campagna elettorale e ora i fondi per il bimillenario Vidiano per la DMC Tere d'Amore la partita è ancora aperta Barbara Delemona che ne servizia sono dispiaciuto per le accuse che leggo sugli organi di stampa in merito ai fondi del bimillenario certamente non le merita l'onorevole Stefania Pezzopane per aver promosso il disegno di legge ed essere arrivata all'approvazione della legge con la sua collega Paola Pelino per essere stata di nuovo in prima linea accanto alla DMC in occasione della proroga avuta a settembre 2018 invito tutti alla calma così esordice nel suo comunicato il presidente della DMC Tere d'Amore in Abruzzo Fabio Spinosa Pingue continuando sottolinea capisco l'iniziale delusione ma alcuni passaggi della legge sono oggettivamente un po' troppo farraginosi non si può gettare la croce addosso a nessuno purtroppo l'emendamento per la proroga presentato dalla senatrice Gabriella Di Girolamo non è rientrato tra quelli ritenuti prioritari certo il buonsenso insegna che non si lasciano incostuditi a Roma 700.000 euro senza un presidio quotidiano ma tant'è ora devono prevalere il senso di responsabilità e i nervi saldi la partita è ancora aperta c'è un importante lavoro che si sta compiendo per non perdere i fondi del bimillenario che voglio ricordare sono finalizzate alla Costituzione del Museo per il Parco Letterario ed altri importanti progetti e non certamente per fare le celebrazioni queste accuse reciproche dettate probabilmente dall'attenzione del momento rischiano di compromettere il preziosissimo lavoro che si sta portando avanti con l'ausilio di tatti rappresentanti delle istituzioni parlamentari e cittadini e che ringraziamo ora dobbiamo portare a casa quello che ci spetta perché è un nostro diritto questa conclude Spinosa Pingue è un'occasione straordinaria per la comunità che ci permette di realizzare nel Costituendo Museo di Ovidio un portentoso attrattore turistico e non dobbiamo vanificarla sono persuaso che il sindaco Casini e l'onorevole Pezzopane sapranno riprendere unitamente ad altri soggetti istituzionali la via del dialogo costruttivo per conseguire l'importante obiettivo anche in vista del decreto 1000 proroghe per il quale la presentazione degli emendamenti scade il prossimo 20 gennaio termina qui la prima parte di Onda TG noi torniamo esattamente fra un minuto e mezzo con le nostre notizie a tra poco dalla passione per il mare dal gusto delle ricette tradizionali e dalla cortesia delle terre d'Abruzzo nasce spizie e delizie del mare un incontro di sapori unici e del pesce migliore congelato fresco ogni giorno a bordo delle nostre navi primi, pastellati e panati carni, verdure, dolci, vini oli e salse assapora le nostre specialità antipasti, primi e fritture e anche da sporto la nostra cucina è sempre aperta spizie e delizie del mare all'Aquila e Bazzano strada statale 17 Lanciano via Tinari e sul Mona via della Repubblica orario continuato perché la qualità merita attenzione si chiama Torino ma i suoi sapori ti fanno fare il giro d'Italia a Sul Mona macelleria Torino oltre a prodotti locali artigianali salumi, umbri e formaggi della bassa bergamasca direttamente dai pascoli pugliesi cacio del gargano pancetta tesa piccante e non bufala campana doc vini, specialità biologiche e per impreziosire le pietanze sali provenienti da varie parti del mondo macelleria Torino nuova gestione con personale qualificato e ricerca del prodotto di alta qualità nel rispetto dell'ambiente a Sul Mona via Circonvallazione Occidentale 4 seconda parte di Onda di Giri partiamo dal treno deragliato in galleria ma è solo un'esercitazione quella che si è svolta oggi sulla Transiberiana d'Italia il nostro servizio esercitazione di emergenza oggi nella galleria Calvario sulla linea ferroviaria sul Monacarpinone un treno turistico svia all'interno della galleria tra le stazioni di Roccaraso e il Fedena a causa di una frana all'imbocco e uno dei due macchinisti resta ferito questo lo scenario promossa dal gruppo FS italiana l'esercitazione coordinata dalla prefettura dell'Aquila ha coinvolto le squadre di primo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco dell'Aquila il 118 dell'Aquila e la polizia ferroviaria si tratta di una delle iniziative programmate periodicamente per monitorare efficacia del flusso comunicativo della catena del coordinamento e prontezza dell'intervento dei soccorritori il tutto per migliorare standard di sicurezza e tutela di persone cose ambiente l'obiettivo è collaudare sul campo e sistema di intervento di assistenza previsto dai protocolli di intesa stipulati tra gruppo FS protezione civile regionale e 118 nessuna ripercussione sulla circolazione dei treni e ora la visita ortodontica istruzioni per l'uso questa sera nella rubrica di approfondimento del martedì pronto 18 sentiamo le anticipazioni nel nostro servizio l'importanza di una visita ortodontica per la salute e il benessere della persona il trattamento riservato ai bambini piccolissimi e ai pazienti della cosiddetta classe 3 tutti i temi al centro della rubrica settimanale del martedì pronto 18 che tocca un argomento d'attualità che afferisce anche alla salute delle persone è giusto consigliare una visita ortodontica a partire da circa due anni e mezzo quindi circa 30 mesi cioè al termine della dentatura da latte cioè quando probabilmente si sono completati i denti da latte in modo che l'ortodontista si può rendere conto di alcune situazioni cliniche è importante precisare che si tratta della visita ortodontica perché? perché invece le linee guida per quanto riguarda la visita odontoiatrica sono un po' più in basso quindi l'età alla quale è più corretto portare i figli dal dentista è a partire da un anno di età e questo per stabilire poi dei corretti stili di vita alimentare ad esempio e non solo perché sono importanti per quanto riguarda poi la prevenzione della patologia cariosa e non solo per quanto riguarda invece l'aspetto meramente ortodontico è più corretto diciamo fare una visita almeno a partire dai due anni e mezzo di età cioè almeno quando ci sono tutti i denti da latte in bocca questo non vuol dire che l'ortodontista a due anni e mezzo mette il cosiddetto apparicchio in bocca però si può ben rendere conto di tutta una serie di situazioni cliniche in genere l'ortodontista poi aspetta un'età media di circa 5 anni per poter poi intraprendere alcuni tipi di terapie e naturalmente mi rivolgo a tutte quelle terapie che riguardano i trattamenti delle cosiddette malocclusioni e quella di questa sera sarà ovviamente una puntata speciale di pronto 18 che approfondiremo l'argomento che abbiamo sentito poc'anzi dando la parola all'esperto senza le telefonate ma con la possibilità di lasciare ovviamente le opinioni sulla nostra pagina facebook con la diretta live ora torniamo a parlare dei cani senza guinsaglio delle deiezioni canine con la piazza che rilancia la lotta l'inciviltà nella nostra raccolta di opinioni che ascoltiamo l'aggressione ai cani tenuti in custodia dalla consigliera comunale Elisabetta Bianchi ha fatto parlare di sé i cani senza guinsaglio che circolano da un l'altro le deiezioni canine è un fenomeno sempre più diffuso dall'altro la lotta dura contro l'inciviltà riparte dalle piazze dei quartieri della città di Sulmona grazie alla nostra raccolta di opinioni per i cittadini gli intervistati del nostro mini sondaggio basterebbe in fondo far rispettare le regole i padroni che li dobbiamo fare allora io le dico che sto guardando la giurata del nogra allora senza guinsaglio non va bene io devo dire un po' di gotine importanti quando si va al veterinario quando si va a passeggio i cagnolini di piccola taglia non vanno lasciati senza guinsaglio vedo spesso cani che attraversano la strada piccoli e la macchina a tempo a tempo non investire ricordo la legge di tutela molto precisa e particolare cani grandi e piccoli piccola e taglia grande e piccola tutti a guinsaglio e cani pericolosi rottweiler pitbull con muteruola soprattutto in presenza delle colonie peline perché spesso può accadere che il gatto può andare sugli occhi del cane o il cane può azzannare il gatto e non va bene chi ama gli animali deve comportarsi nella maniera diciamo consona sia perché gli animali devono avere diciamo una situazione di serenità perché queste sono sicuramente delle situazioni che creano scompenso anche agli animali e poi voglio dire cioè tutto quello che c'era da dire la signora Ferrone che comunque è un'autorità sotto questo punto di vista lo ha detto perfettamente quindi se amate gli animali fate in modo che anche gli altri che non hanno un animale percepiscano comunque una certa sicurezza se lo si deve prendere con chi non fa osservare le norme ci sono paghiamo i vigili o chi per loro io non so che stanno a fare che facessero osservare le norme che ci sono basta questo oddio io li farei una bella contravenzione ma di quelle buone e poi sto notando ultimamente specialmente a via Pola è pieno di cacca anche lì un'altra muta perché non è giusto che noi ci sporchiamo le scarpe e riportiamo la puzza a casa alla villa è diventato con rispetto parlando un cacatoio e questo non va bene l'ultima aggressione ieri sera quindi a questi padroni che lasciano i cani pericolosi senza guinzagli il canino è giusto stanno le leggi bisogna portare la museruola e il guinzaglio il guinzaglio deve stare a gamba a un metro e la busta basta applicare queste leggi e tutto è risolto ovviamente sempre colorite le nostre raccolte di opinioni ma anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia la Horizon Service società cooperativa sociale di Sulmona in consorzio con la regione Abruzzo con il comune di Sulmona e con il comune di Castel di Sangro con il coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia con alcuni enti pubblici e privati di Grecia e Bulgaria ha ottenuto il finanziamento per il progetto europeo Children's Fest il progetto europeo è finalizzato a migliorare la qualità dei servizi nei confronti dei minori vittime di violenza assistita ad accrescere le competenze dei professionisti che lavorano nelle aree individuate a promuovere un approccio olistico e multidisciplinare al fine di creare una forte e stabile cooperazione tra le organizzazioni coinvolte nel progetto stesso inclusi i partner associati la regione Abruzzo i comuni le università il tutto per rafforzare la cooperazione tra le competenti autorità regionali e locali deputate e servizi di cura assistenza i dettagli del progetto verranno illustrati nei prossimi giorni e ora lo sport con il rugby rosa che a Sulmona diventa una realtà positiva l'esordio ad Ancona la squadra femminile del Sulmona Rugby la scorsa domenica ha debuttato ufficialmente nelle attività federali con la partecipazione ad un torneo Under 16 ad Ancona è stata una prima esperienza con un impatto positivo da parte delle ragazze che si sono confrontate con le parietà di Ancona San Benedetto del Tronto Gubbio e Monte Granato la nuova realtà nasce da un apposito progetto della società dedicato alla diffusione di questo sport tra le donne l'obiettivo è quello di innalzare la qualità della proposta sportiva per le proprie atlete che oltre agli allenamenti prevede momenti di confronto sul campo come avvenuto ad Ancona le giovani al termine delle gare erano stanche ma felici di aver intrapreso questa avventura soddisfatto l'allenatore Giuliano Bianchimani perché grazie all'impegno che contraddistingue l'intero gruppo le premesse per il futuro sono buone per la squadra femminile del Sulmona Rugby domenica prossima è in programma un altro appuntamento a Monte Granaro in provincia di Ferro il Rugby Rosa sta appassionando non solo le più giovani ma anche le senior che stanno gettando le basi per allestire una formazione il calcio con il turno in prasettimanale perché domani tornano in campo le squadre del camionato di eccellenza per il turno in prasettimanale valido per la quarta giornata di ritorno Nero Stellati alle 14.30 allo stadio Cipriani di Raiano affronteranno la Torrese per i Pratolani sarà fondamentale ottenere il risultato positivo dopo la sconfitta della scorsa domenica a Cupello l'impegno però si presenta proibitivo contro la quarta in classifica dopo i Nero Stellati toccherà l'Ovidiana Sulmona per il campionato di promozione che affronta nel turno infrasettimanale nel turno infrasettimanale in promozione di domani mercoledì 15 gennaio l'Ovidiana Sulmona affronterà il Fossacesi al Cipriani di Raiano per la quarta giornata di ritorno a causa della concomitanza con la gara di eccellenza dei Nero Stellati il calcio d'inizio ci sarà alle 18 i Biancorossi reduci dalla vittoria nello scontro diretto a Miglianico sono pronti a centrare un altro successo per consolidare il secondo posto l'obiettivo è quello di sfruttare il momento positivo per guadagnare terreno verso la vetta in considerazione che le distanze dalla capolista Casalborrino si sono ridotte da 10 a 8 punti noi mercoledì dobbiamo fare il risultato pieno un'altra volta pensare a vincere tutte le partite perché se veniamo a meno pensare di arrivare dove sta Casalborrino dobbiamo vincere tutte le partite non possiamo concedere niente i ragazzi di Caravilli proveranno a prevalere contro il Fossacesia allenato dall'ex San Nicola Sulmona Andrea Periotto all'andata finì 2 a 2 con il Fossacesia che si trovava al primo posto a punteggio pieno mentre adesso tra le due formazioni c'è un divario di 16 punti con la squadra di Periotto che occupa una posizione di metà classifica sulla carta è una partita abbordabile però tutte le partite sono complicate e sono difficili lo stesso Casalborrino che andrà a lanciare nell'ultima classifica dovrà vendere la pelle per vincere la partita il Fossacesia è reduce dalla sconfitta casalinga contro il San Salvo che ha interrotto la serie di tre vittorie consecutive Periotto non avrà a disposizione il centrocampista Caballeri squalificato tranne l'infortunato Coletti Lovidiana Sulmona per il resto si presenta al completo con l'intento di regalare ulteriori soddisfazioni ai propri tifosi al Cipriani arbitrerà Cristian Di Renzo della sezione di Avezzano il Raiano affronterà in trasferta l'Elicese che domenica è riuscita a fermare il Casalborrino sullo 0-0 gara non facile contro la quarta forza del campionato ma la squadra di Casanova ha riacquisito fiducia dopo il successo contro la Cassolana l'Elicese si sta mostrando molto solida in difesa in quanto nelle ultime cinque partite non ha subito gol ma nello stesso tempo non segna dal 7 dicembre contro il Fossa Cesia il Raiano darà il massimo per portare a casa un risultato positivo pur consapevole delle difficoltà che si avranno contro un avversario che all'andata spugnò il Cipriani ma con i Raianesi che sotto sotto di tre reti riuscirono ad accorciare le distanze due volte nell'Elicese è squalificato il difensore Bassano a delice arbitrerà Stefano Palmucci della sezione di pescata lo dico al TG domande e senerazioni curiosità sulle notizie non solo che peschiamo sulla pagina Facebook di Onda TV con la diretta live di Onda TG quei cani dell'avvocato Serafino Speranza sono due teneroni grande solidarietà non lasciare il grave caso impunito ci hanno scritto e poi complimenti alla senatrice di Girolamo che non ha lasciato nel dimenticatoio il caso Snam continuate a scriverci sui social vi ricordo dopo di noi Abruzzo Notizie il punto alle 21 ci rivediamo con pronto 18 la rubrica del martedì questa sera dedicata alle visite ortodontiche quindi sarà una puntata speciale diversa anche dal format che però potete seguire sia sul canale 18 della leggera terrestre che sulla pagina Facebook lasciando impressioni opinioni anche domande suggerimenti sempre sotto la nostra diretta live ma come ogni martedì non possiamo chiudere senza l'aforisma del giorno un po' di saggezza popolare dietro le nostre notizie bene davvero tutto per questa edizione Honda DC torna domani grazie per essere rimasti con noi a tutti una buonasera 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 aforistica la notizia che mi ha preso che mi ha preso a commentare è quella che riguarda l'ennesimo caso dei bus comunali in avaria con la soppressione di diverse corse che riguardano questa volta il circuito delle frazioni quindi è vero che il comune di Summona ha acquistato dei bus nuovi ma sembra che siano ancora dei matricolari è vero che questa volta il gasolio c'è però pare che i pullman quei pochi che vanno ancora in giro ogni tanto si fermano si sono fermati ancora una volta e ancora una volta si è creato il disagio alle frazioni con la mentele giustamente diffusa da parte dei residenti che non hanno trovato queste corse a disposizione purtroppo senza voler criminalizzare nessuno perché qua non è facile amministrare una città come Summona quindi ci rendiamo conto dei problemi burocratici amministrativi che ci possono stare dietro però secondo me molte volte si parla troppo si anticipa troppo la soluzione dei problemi e poi questa soluzione non sempre puntuale non sempre tempestiva come lo è nei discorsi nelle promesse e premesse come si dice in dialetto no chiacchier e tabacchere di legna la banca nell'embegni perché perché le chiacchiere e le tabacchiere di legno le tabacchiere sono quegli strumenti in cui una volta veniva messo il tabacco sono quelle scatole in cui una volta veniva messo il tabacco non hanno nessun valore le chiacchiere e questi aggeggi dove viene conservato il tabacco non hanno nessun valore e siccome non hanno nessun valore nessuna banca le impegnerebbe mai no perché se alle chiacchiere alle promesse non corrispondono i fatti è inutile promettere dire fare facciamo questo facciamo quello il problema si sta risolvendo il problema sta sempre qua l'anno vecchio si è andato l'anno nuovo è arrivato con tante belle speranze ma i guai stanno sempre là quindi io inviterei chi di dovere sicuramente al di là dell'amministrazione comunale ci sarà comunque qualche responsabile deputato ai trasporti pubblici io inviterei chi di competenza ad attivarsene attivino per porre fine a questi disagi o si immatricolano questi benedetti pullman nuovi che sono stati comprati e cosa si faccia la manutenzione a questi vecchi se il gioco vale la cantina se no da una parte si deve vendere la cosa sono stati comprati quelli nuovi mettiamoli in funzione acceleriamo l'iter per la messa in funzione di quelli nuovi e questi vecchi se sono così mal ridotti basta si sospendono dal loro servizio si mandano in pensione si rottavano si alienano si tolgono ma la città di Lanza non può stare ogni giorno con la speranza se passa o non passa il pullman è vero che i problemi ce ne stanno tanti questo è uno dei tanti problemi però anche per questo tipo di per questo tipo di esigenza ci sta un qualcuno preposto a vigilare e a risolvere questo tipo di esigenza e questo qualcuno si tiene da fare sta là si tiene da fare insomma più che altro per evitare queste cose qui antipatiche che la raccolta di firme e le sposte in procura perché poi la burocrazia chiama altra burocrazia un disagio chiama una serie di polemiche non si parte di allungare il brodo perché cosa cioè il fatto che qua la gente si sta organizzando con la raccolta firme scaturirà un'altra ennesima denuncia in procura con un altro procedimento con un'altra cosa ma perché tutte queste perdite di tempo quando è sufficiente mettere in circolazione i pullman nuovi e siamo tutti felici e contenti ci vuole poco meno chiacchia meno chiacchia più fatti così il banco non ti manca impegna niente buonasera a tutti e di nuovo buon anno a coloro a cui non ho fatto gli auguri fino ad oggi grazie a tutti